Un saluto dal Tg della mobilità, oggi come sempre nei festivi via dei fori imperiali a isola pedonale con la deviazione delle linee di bus lì normalmente in transito. In strada le linee mare, linee bus per le spiagge di Ostia e Torbaianica 07 062 068, dettagli orari e percorsi su muoversiaroma.it. In centro al via la stagione estiva del teatro dell'opera in programma al Circo Massimo, questa sera per le prove dello spettacolo d'esordio a partire dalle 20 sono previste delle chiusure su via dei cerchi con la deviazione di 8 linee di bus, i dettagli su muoversiaroma.it.